allora vi faccio vedere come fare questo bellissimo punto a uncinetto che è un punto molto spesso molto pieno diciamo quindi molto bello anche per fare una cosa bella calda è veramente semplice ma carino veramente vedete come particolare con queste maglie allungate alternate allora è molto semplice da lavorare si lavora semplicemente su due giri il giro a rovescio quello di ritorno diciamo sul rovescio che sarà semplicemente delle maglie basse e il giro a dritto che sarà questo punto allora si avvia su un numero di maglie come vi pare perché questo si lavora su due maglie però si può benissimo iniziare e finire con la stessa maglia non c'è una regola quindi potete avviare il numero di maglie o pari o dispari come preferite se le fate un numero pari quando inizierete con una maglia bassa finirete con una maglia allungata se lo fate un numero di maglie dispari finirete inizierete con la stessa maglia quindi o ma o bassa o maglia bassa maglia allungata primo giro sarà un giro a maglia bassa sul dritto del lavoro quindi faremo semplicemente un giro a maglia bassa di andata e un giro a maglia bassa di ritorno quindi i primi due giri saranno due giri a maglia bassa sia sul dritto che sul rovescio e poi iniziamo il nostro punto che si lavorerà sempre così allora iniziamo la prima volta facciamo una maglia bassa sulla prima maglia e poi facciamo una maglia allungata sulla seconda la maglia allungata semplicemente vedete invece di entrare qui entriamo nella giro di sotto vedete esattamente la maglia sotto dove questa è la maglia che dovrei entrare dove chiude questa maglia quindi qui io entro prendo il filo lo allungo e lo chiudo a maglia bassa semplicissimo così poi ho una maglia bassa normale in quella successiva e ancora vedete questa è la successiva invece che entrare qui entro in questa sotto quella del giro precedente in pratica e chiudo quindi una maglia bassa normale e una maglia bassa entrando di sotto e quindi allungando questo filo è semplicissima così vedete era una maglia veramente è un punto semplicissimo da fare e il risultato è veramente molto molto carino perché viene proprio questa maglia un po irregolare fatta appunto vedete con queste maglie così è bella piena quindi è una maglia bella spessa bella calda se dovete fare tipo uno scaldacollo anche un cappello viene molto bello con questo punto qua è semplice appunto da fare quindi così il giro diciamo a dritto lo faremo sempre così una maglia bassa nel giro di sopra una maglia bassa nel giro di sotto vedete io l'ultima sarà una maglia bassa perché io ho caricato un numero dispari di maglia quindi nell'ultima che qua che si entra sempre un po peggio qua ecco nell'ultima faccio una maglia bassa poi faccio una catenella per girare poi io rilavoro sempre anche questo e la catenella non la conto mai come una maglia rientro qui quindi faccio tutte maglie basse quindi questo giro qui questo utilizzatelo per ricontare le maglie quindi ricordatevi il numero di maglie che avevate caricato con questo giro potete controllare appunto di non aver perso nessuna maglia e potete usarla appunto per contarle per vedere di non aver sbagliato quindi il rovescio lo facciamo tutto a maglie basse ecco qua finito il giro sempre una catenella e giriamo adesso prima io avevo iniziato con una maglia bassa qui adesso entrerò in quella sotto quindi farò come prima maglia quella allungata quindi entra in quella sotto e chiudo maglia bassa poi entro in questa non sopra normale e così via quindi questa volta semplicemente inizierò con quella sotto e quando vedete andate parte la prima che è di bordo già la seconda per vedere che sia vi rendete conto vedete di essere esattamente non sopra ma a fianco di quella precedente altrimenti vi verrà semplicemente una colonna tutta di maglie allungate che non avrete questo effetto quindi fate attenzione ad alternare bene il punto quando rifate vedete la maglia allungata deve essere così in diagonale rispetto al giro precedente deve venire questa riga così in diagonale di maglie allungate e così via semplicemente così vedete è veramente semplicissimo e guardate quanto è veramente bello sul rovescio è un punto veramente carino anche sul rovescio vedete guardate come bellino anche sul rovescio un punto un po confuso diciamo però comunque non sembra un rovescio sembra un punto un po strano ma comunque è sempre bello pulito anche sul rovescio quindi lo potete utilizzare benissimo su una lavorazione dove si vede anche il rovescio grazie a tutti